4. I minuti sono parte del tempo, esattamente come le ore, ed io non so cosa sto dicendo. 3. Il tempo è passato e mi rendo conto che... 2. La mia vera forma è questa. Esatto! Vi piace la mia voce? 1. Non ve lo aspettavate, vero? Questa è la mia voce ed io sto infrangendo la quarta parete. 0. Siamo a 0 e io ho concluso. Tutto questo non ha avuto senso? O forse sì? Aspettiamo e vediamo che cosa succede in questo manicomio. Grazie. 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 Grazie.